In questo nuovissimo video di programmazione 3 come prendere 30 elode Dunque, l'ultima volta ci siamo lasciati con questa schermata Abbiamo visto appunto come andare a mettere a posto un pochino E iniziare con i primi passi per utilizzare intelligenza e idea E adesso siamo arrivati appunto che abbiamo la nostra applicazione grafica Abbiamo il nostro scene builder All'interno di questo programma come potete vedere ci sono parecchie schermate All'inizio potrebbe anche essere un pochino spaventoso vedere tutte queste cose qua giustamente Ma noi andiamo a esaminare un pochino come funziona questo programma È molto semplice Praticamente c'è questa zona sinistra che contiene il nostro elenco di cose Quindi c'è V-Box, Label e Button In questo caso ci sono solo tre cose Partiamo subito da dire che cos'è una V-Box Una V-Box è praticamente il corrispettivo dell'H-Box Dove è vista per vertical È una scatola dove praticamente gli elementi vengono messi in verticale Uno sopra l'altro In pratica detto in parole povere Ovviamente nell'H-Box come potete immaginare Esatto Saranno in orizzontale Perché H sta per horizontal Label è semplicemente una scritta Non si può interagire con la scritta O meglio si potrebbe ma il suo obiettivo è solo di mostrare del testo Come vedete c'ha delle proprietà Ah non vi ho detto Praticamente qua a destra c'è l'inspector Questo qua è appunto questo pannello in cui abbiamo una serie di informazioni Per esempio il colore L'allineamento del testo Il testo stesso Qual è il font Che lo si può cambiare Adesso non ho più cliccato Eccolo Eravamo arrivati alla Label Ecco vedete che appunto anche come potete vedere Se cambiamo oggetto cambiano anche le sue proprietà Nella Label appunto ci sono tutte queste qua E va bene Facciamo attenzione Ci sono altre due Altre cose che sono interessanti Come per esempio Il pannello layout Che è nascostissimo Perché non lo vede nessuno Perché praticamente in basso a destra Proprio nel punto più basso Che ci potesse essere Quindi è parecchio difficile da vedere Però vedete che questo qua cambia in base a dove si trova Se si trova dentro una Vbox Ha delle proprietà della Vbox Come per esempio il margine Il padding Che sono le distanze appunto Dai vari punti della Vbox Quindi appunto questo serve un po' per gestire Come si trova all'interno della pagina E poi abbiamo la parte code Che è l'ultima di queste varie cose Dove appunto come vedete abbiamo un ID Questo qua sarà molto importante dare degli ID Ad alcuni dei nostri elementi E poi abbiamo i primi eventi Parleremo bene di che sono questi eventi nel video apposito Quindi però lasciamo a chi se ne frega Se qualcuno deve appunto andare a creare qualche cosa Come fa? Allora o sa tutti i nomi a memoria O sa no se li deve andare a cercare Però alcune cose molto semplici Per esempio che non cambiano mai Di applicazione ad applicazione Sono sempre gli stessi Per esempio il button E sempre il button Come vedete qua c'è il button C'è il button bar addirittura Il menu button Radio button Toggo il button C'è una serie Fate attenzione a quelli che sono blu Perché quelli che sono blu Praticamente li potete usare Solo se cambiate il tema Ma fate attenzione a utilizzarlo avanti Cioè se voi mettete subito quel tema Potrebbe funzionare Io non l'ho mai fatto Però se lo mettete poi dopo Vi spacca tutto E quindi poi bisogna cambiarlo Nel caso vi faccio vedere come si fa Praticamente bisogna andare Io non lo so dove si trova Quindi andrò a cercare semplicemente Team E Eccolo qua in preview Preview team E si va a selezionare Rimettete quello di base Che sarebbe Modena Modena FX8 Se andate ovviamente a cambiarlo Loro praticamente Vogliono farti modificare A glue on Ovviamente glue on però Per poter usare questi qua blu Però non lo so bene come funziona Quindi A me so solo che una volta L'ho provato Ha spaccato tutto Quindi è meglio Evitare Ehm Bene Detto questo andiamo quindi Se non sappiamo i nomi Di tutte le varie cose Non possiamo usare questa ricerca Come si fa? Semplicemente si va a cercare Nelle varie sezioni Che cosa ci serve Vediamo che abbiamo più sezioni Quella che sarà aperta di default Sarà i container Infatti voi magari state cercando qua Dite ma io volevo mettere solo un bottone Come è possibile? Non c'è E invece c'è Solo che quello che si apre di base È container Invece Noi quello che ci interessa Sono i controls Per cui per esempio Se voglio aggiungere un bottone O che ne so Mettiamo che mi serve un Color picker Mai usato nella mia vita Questo Questo oggettino qua Lo possiamo andare ad aggiungere E vedete che si è andato Lo posso trascinare direttamente Sulla finestra O anche metterlo direttamente Nella gerarchia Vi faccio vedere l'altra cosa Che funziona Semplicemente andate a prendere Color picker Lo andate a metter Nella gerarchia Vedete che appare Allo stesso identico modo A questo punto Fatto questo Se io salvo Cosa vi aspettate che succeda Da questo lato? Ovviamente Come molti di voi Avranno sicuramente capito Se premo play Semplicemente Parte Mi fa permette Di scegliere un colore Ok Quindi per esempio Questo è stato il primo Diciamo Delle nostre varie cose Come vedete qua Ci fa vedere che Di default è white Mi pareva fosse di default white Anche lì E va bene Quindi possiamo andare a vedere Ancora Che ne so Altre cose Ma generalmente Non vi servirà mai Più che tanto Io per esempio Quello che ho utilizzato Sono state delle textarea Per esempio No Le textarea Sono molto comode Perché Andiamo Salviamo prima Perché se non funziona Andiamo qua Facciamo restart E lui praticamente Vedete Eccola qua Adesso va bella Visualizzazione brutta Ma se noi lo allarchiamo Diventa così E ci permette di scrivere Questo è molto molto comodo Soprattutto perché Di solito Questi tipi di progetti Ve lo anticipo già Sono progetti dove Praticamente Probabilmente lo sapete già anche voi Bisogna andare a Mandarsi dei messaggi Delle stringhe di testo Cosa in più Carina Che io non ho usato Per il mio progetto Ma andava bene lo stesso Però era figa Sto cosa qua Praticamente Ho visto prima HTML editor Io questo non l'ho mai utilizzato Eccolo Però guardate che bello Vi permette di Non solo Mandare Diciamo Una Una roba Una Che ne so Una stringa di testo Ma vi permette di Farlo anche formattato Di farlo più bellino Con tutte le varie dimensioni Eccetera Quindi per esempio Se io vado A farlo ripartire Tac Ovviamente Devo salvare Prima Se no Non funziona Tac Parte 2 Partirà mai Non è partito Addirittura Mi ha dato un errore Ok Praticamente Ho trovato Questo mitico ragazzo Che non so come si chiama Che praticamente Ha detto che Alexander Pacha Che praticamente Negli ultimi SDK Non è più Incluso In JavaFX Cioè Praticamente Questa roba qua È solo di JavaFX E quindi Non è Incluso Nell'OpenJDK Quello là Che vi ho fatto selezionare All'inizio Praticamente se lo volete cambiare In teoria Dovrebbe esserci qua Project Se cerco Project Non si può cercare Allora Insomma comunque Se andate a cercare Nel project E cambiate la versione Del Diciamo Del vostro XML Lì Del vostro Del vostro JDK Scusate Praticamente Vi permette Di mettere anche Questo qua Quindi appunto Non utilizzate L'ultimissima versione Poi questo ovviamente Sono tutte cose Che potrebbero cambiare Quindi ovviamente Adesso l'ho cambiato Vedete che cambiandolo Di qua Si salva automaticamente E anche Scene Builder Si adatta Molto bene Qua l'ho cambiato Direttamente Da questa roba Qua ho fatto un po' L'accherino L'ho cambiato direttamente Da dentro L'XML Quindi Abbiamo visto questo qua Appunto Vabbè Non ha funzionato Quello lì Basta che tornate Un pochino indietro Con la versione Non mettete L'OpenJDK 17 E te ne mettete N'altro Comunque appunto Abbiamo Abbiamo tutte queste Queste cose belle Abbiamo I vari Slider Per andare a mettere I vari Input Questo qua Per esempio Verticale Poi per esempio Poi Gluon È quella che vi dicevo Prima Tutte le cose blu Queste qua Potete tranquillamente Balzarle Se non volete rompere tutto Come vi ho detto prima Dopodiché c'è La roba direttamente Proprio per disegnare Come un canvas Ma questo non Va al di là Dei nostri scopi Delle forme Addirittura Per andare a me Vabbè anche questo Va più che al di là I grafici Roba incredibili Veramente da pazzi Furiosi Roba per le cose 3D Con le luci Roba proprio Si arriva a cose Che a noi non interessano Minimamente Quindi noi ci rimarremo Con i bottoni Textarea E robe molto Molto semplici Quindi appunto Per noi La cosa finirà lì Ma per questo video È più che sufficiente Quindi io come al solito Vi saluto Vi ringrazio per essere stati con me Vi invito a provare Un pochino di queste cose A smanettare un pochino Con un shin builder Tanto alla fine Quello che dovete fare È quello Perché l'unico modo Per impararla Non è tanto andare a cercare Fare Ma Mettersi lì E sbatterci un pochino La testa Io vi ho spiegato un pochino Bene dove sono Le varie cose In modo da sapere Dove mettere le mani Quindi niente Vi saluto Vi ringrazio per essere stati con me Come al solito Vi invito a lasciare Un bel pollice in su E iscrivervi al canale Se ancora non l'aveste fatto Per non perdervi i prossimi video Lasciatemi nei commenti Delle domande Eventuali richieste Su argomenti Da rivedere O da fare E noi ci vediamo Nel prossimo video Bella a tutti E noi ci vediamo